Questa era una partita fondamentale, non solo per la classifica ma anche per quel discorso di crescita che tante volte abbiamo detto. Non era semplice contro un Cosenza, bravo a chiudere tutti gli spazi, il Benevento è venuto fuori. Sì, sono contento per la prestazione della squadra, come ha detto tu non era facile oggi perché di fronte c'era una squadra molto brava a chiudersi e ripartire. Noi abbiamo concesso poco o niente, quindi devo fare i complimenti alla squadra che ha interpretato bene la partita. Ripeto, non era facile. Sono contento di quello che ho visto. Sicuramente ho visto tanti miglioramenti, tante cose ancora da migliorare, però la strada è giusta. L'impegno, che è la cosa più importante da parte dei ragazzi, c'è stato. Quindi adesso da domani iniziamo a pensare alla partita di Crotone, che sarà una gara difficile. Riconferma del tandem di centrocampo, Viviani-Calò, in effetti sembra proprio la soluzione ideale. No, noi abbiamo giocatori, c'è a Campora che può ricoprire col ruolo, che quando ha giocato ha fatto bene. Ho deciso di riproporre Viviani-Calò perché secondo me sono giocatori bravi nel palleggio e in casa, soprattutto in casa. Hai bisogno di qualità, soprattutto nelle giocate. Ho spostato un po' Ionita sulla parte esterna in un ruolo dove anche a Cagliari, ma nelle altre partite, ha fatto molto bene. E' un giocatore di qualità che cercavo la qualità tra le linee insieme a Savo. Ha fatto bene, poi quando trovi di fronte una squadra che si chiude, dieci giocatori sotto linea palla, per sfruttare magari i nostri errori, per ripartire. Noi siamo stati bravi a non concedere questo. Non era facile, ma sono contento di questo. Carmine. Mister, bentrovato e complimenti per la prova della squadra. Le chiedo, aumentano le fonti di gioco? Lo sottolineiamo questo passaggio poco fa in trasmissione. Aumenta la soluzione offensiva con sempre più uomini capaci di orchestrare, ad esempio, anche Barba nella costruzione? Ci vuole pazienza, ci vuole un po' di tempo, perché a me piacerebbe pure trovare le soluzioni, le giocate, vedere la mia squadra giocare con fluidità, con tranquillità. Capisco che non è così semplice, perché da pochi mesi che lavoriamo insieme, ripetere sempre le stesse cose dopo l'annata di una mala retrocessione è difficile ripartire. Noi piano piano stiamo cercando di lavorare, di cancellare, soprattutto, non parlare più dell'anno scorso, iniziare a lavorare per fare un campionato importante. Il campionato importante lo può fare solo lavorando solo in settimana e cercare poi di riproporre tutto quello che fa in settimana, di riproporlo sul campo. A volte facendo le cose fatte bene, a volte sbagliando, però credo che nel percorso di crescita sia anche normale, ho giocatori, e ci sono in questa squadra giocatori di qualità, sia in centrocampo ma anche in difesa e nel reparto avanzato. Devo cercare di sfruttare al meglio tutti gli elementi e soprattutto la cosa importante è che chi non gioca si deve far trovare sempre pronto. E questo voglio fare anche dei complimenti a Maffetini perché non era facile farsi trovare pronto perché poi il secondo portiere è diverso di un giocatore di movimento. Sono contento per il ragazzo perché lo merita e perché si allena sempre al massimo, è un ragazzo molto positivo, sono veramente contento per lui. Tra i tutti convolti c'è anche Vokic, Billy. Buonasera mister, innanzitutto è bello vederla sorridere finalmente, rilassato dopo un risultato importante come quello odierno. Io volevo soffermarmi su un aspetto. Il Benevento è la quarta difesa del campionato, quindi una di quelle che subisce meno, ma nello stesso tempo è anche il quarto attacco. E nonostante questo modulo apparentemente è un po' più spregiudicato, il 4-2-3-1 con due play che hanno caratteristiche più offensive che difensive, nelle ultime due partite il Benevento in fondo ha preso un solo gol ma in maniera così con degli errori individuali. Crede che questa possa essere innanzitutto il punto di partenza, la forza del Benevento, poi ovviamente in avanti si migliorerà col tempo, con l'intesa, con l'integrazione dei calciatori. Ma non crede che sia questo l'aspetto migliore di questa squadra finora? Ma in questo momento è quello che ti dà più equilibrio, sia quando hai palla e soprattutto quando non hai palla. Il campionato è molto lungo, ci saranno dei momenti dove per forza di cose devi cambiare, però penso e credo tanto che il sistema di gioco conti ben poco. L'ho sempre detto, sono convinto di questo, dipende dall'interpretazione che uno dà al sistema di gioco, perché puoi giocare anche con quattro attaccanti, pure non è detto che vinci. Bisogna trovare l'equilibrio giusto per cercare di portare la palla ai nostri attaccanti più pulita possibile. Perché poi davanti noi abbiamo dei giocatori con molta qualità e anche individualmente sono molto bravi. Se riusciamo a portargli la palla e fargli arrivare la palla più pulita possibile e non cercare di andare sempre al duello aereo oppure andare a contrasto con l'avversario, diventa tra virgolette più facile. Però non è facile quando trovi delle squadre che si chiudono e devi trovare una soluzione. La soluzione la può trovare nell'uno contro uno, cercare di creare superiorità. Quello che avevo chiesto oggi alla squadra è di andare per via esterna, perché giocando contro un 5-3-2 la zona nevralgica del campo, la zona centrale, era molto occupata. Quindi noi dovevamo andare per via esterna, andare a cercare di fare il 2 contro uno o l'uno contro uno. La squadra l'ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. C'è da migliorare che nel secondo tempo dobbiamo entrare ancora con più cattiveria, perché anche oggi come Cremona non siamo entrati molto convinti. E quindi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare tanto. Sonia Sì, se puoi già dirci le condizioni di Paleari e anche di Viviani. Allora, Viviani spero niente di grave, perché ha sentito un po' il muscolo affaticato. Spero sia solo un affaticamento del muscolo. Per quanto riguarda Paleari sembra che sia un problema lo zigom, e quindi bisogna fare gli accertamenti del caso. Domani il dottore, lo staff sanitario valuterà bene. Vedendo il ragazzo molto dolorante sono un po' preoccupato. Spero niente di grave, però è da valutare domani le condizioni. Cerchiamo in questa settimana di recuperare anche gli infortunati. Credo che quello che ha più probabilità di recuperare sia Elia e altri ancora, magari non per questa partita. Però vediamo domani, vediamo tutto domani. Domani subito in campo non ci saranno giustamente pause? No, domani mattina ci alleniamo. Dobbiamo preparare bene la partita. L'ho detto anche qualche settimana fa, non ci dobbiamo esaltare dopo una vittoria, perché il calcio mi ha insegnato che bisogna stare sempre molto attenti, perché ogni partita nasconde delle insidie. Quindi non dobbiamo essere molto concentrati, molto preparati e lavorare solo, al di là del risultato della domenica, che sicuramente la vittoria ti aiuta a lavorare meglio in settimana. Ma non ci dobbiamo fare condizionare da questo, perché quando vinci c'è sempre qualcosa che non va, quando perdi c'è sempre qualcosa che non va, quindi noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e lavorare.